Ida Platano fa una confessione inaspettata a Riccardo a Uomini e Donne e nuovi colpi di scena, destabilizzeranno l'equilibrio del trono over oggi pomeriggio. Il segmento senior di Uomini e Donne andrà in onda a partire dalle 14.45, e chiuderà la settimana nel talk dei sentimenti mediaset. Al centro della puntata ci saranno in particolare quattro protagonisti. Ida Platano, Riccardo, Anna Tedesco e Giorgio Manetti. La dama di Brescia, che nelle scorse settimane aveva chiuso la sua frequentazione con Riccardo a Uomini e Donne, continuerà a tessere le trame del trono over. La storia tra la Platano, e il Cavaliere di Taranto, sembrerà infatti tutt'altro che archiviata. Ida esordirà in puntata oggi, come mostrato da un video di Vittipi pubblicato sulla pagina Facebook di Uomini e Donne, affermando di non aver detto una cosa a Riccardo, e di essere intenzionata a comunicargliela. Dal tono della dama, sembrerà una notizia molto importante. Le anticipazioni di Ue non svelano cosa abbia rivelato la Platano. Nel video di Vittipi si evince, che Riccardo e Ida si confronteranno dietro le quinte, non è da escludere, che il segreto venga rivelato lontano dalle telecamere. La confessione di Ida, cambierà le sorti della coppia? Anticipazioni Uomini e Donne. Ida e Riccardo tornano insieme. Oltre alle peripezie sentimentali di Ida e Riccardo, a Uomini e Donne torneranno protagonisti anche Giorgio Manetti e Anna Tedesco. Dopo che Gemma ha puntato nuovi corteggiatori, oggi il gossip sulla presunta frequentazione di Anna e Giorgio continuerà a serpeggiare nel Tronove. Nel pomeriggio arriverà una nuova segnalazione. Federica, un ex partecipante del Tronove, riporterà in studio alcune confidenze che in passato le avrebbe fatto Anna. A detta della dama, tra la Tedesco e Manetti ci sarebbero stati degli incontri e dei baci. Uno in particolare scattato spontaneamente in un parcheggio. Federica racconterà che durante le sue confidenze, Anna le avrebbe confessato, che Nino era molto geloso di Giorgio. In studio la tedesca negherà tutto e ribadirà, che i baci con Giorgio, sarebbero avvenuti durante la loro frequentazione di due anni fa. Gianni Sperti si scaglierà contro Anna e Giorgio. L'opinionista, che da settimane non trova limpido il rapporto dei due protagonisti del Tronove, sottolineerà che prima o poi la verità verrà a galla. Giorgio Manetti resterà in completo silenzio, evitando di accendere nuove polemiche. Il Cavaliere, evitando di commentare, sottolineerà di essere intenzionato a non dare più adito a rumors e pettegolezzi. Un atteggiamento, quello di Giorgio Manetti, che finirà per inasprire i dubbi a Anna.